Adoriamo Cristo, pane che sostiene nella evangelizzazione. Gesù disse, come il Padre ha mangiato me, così anch'io mando voi. Signore, noi ti amiamo, signore, tu sei il nostro pastore, signore, noi ti adoriamo, signore, noi ti amiamo, tu sei il nostro maestro, signore, noi ti amiamo, tu ci mandi nel mondo come tuoi testimoni, ti amiamo, signore, signore, noi ti amiamo, tu ci guidi sui sentieri del mondo, no, 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 no Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.